Amici carissimi, buon pomeriggio. Mi sento di fare questo video, insomma, per sollevare un attimino, appunto con la speranza che si possa chiudere, insomma, l'argomento Nino D'Angelo neomelodico. Questa mattina facendo colazione al bar... mamma mia che tempo... ho avuto la possibilità al bar questa mattina di parlare con alcune persone, comunque, che hanno una cultura musicale molto, ma molto più avanzata di quella nostra. Allora, da premettere che vi sta parlando una persona, la quale sarei io, che canta, scrive e suona neomelodico da vent'anni. È giusto che io lo dica prima per evitare, appunto, che si possa suscitare qualcosa contro di me. Quindi, sto parlando in prima persona, ci sono dentro anch'io in questa cosa, prima di tutti voi. Ma è giusto che ognuno, insomma, ha esposto il suo parere e io voglio esporre il mio. Innanzitutto, come avete potuto notare, Nino D'Angelo ha dato la sua risposta, perché, ovviamente, mi ci metto in mezzo anch'io, anche se l'avevo capito, siamo degli ignoranti. Ignoranti non significa handicappati, perché quando qualcuno dice a qualcun altro ignorante, da ignoranti, ovviamente, ci si sente offesi. Ignoranti significa ignorare ciò che qualcuno ti spiega, ignorare ciò che qualcuno, appunto, ti possa dire qualcosa e tu a quel punto la ignori, cioè non vai ad esaminare bene. Comunque, lasciamo stare questo. Detto questo, ragazzi, Nino D'Angelo è stato attaccato da tutti. È stato attaccato da tutti. Ho visto qualche video di qualche artista molto nota a Napoli. Ci sono veramente, ma veramente, è rimasto male qualche artista che io seguivo di Napoli. e mi sono tolto dalla pagina, avevo chiuso tutti i battenti. Non mi aspettavo quelle risposte, in maniera arrogante. Insomma, ragazzi, dico, andiamo a sintetizzare assieme cosa significa neomelodico. Cos'è neomelodico? Allora, che significa nuova melodia? Dico, ok, dico, abbiamo fatto questa scoperta da un milione di dollari, che significa nuova melodia. Va bene. Neomelodico, ragazzi, non si sta a intendere soltanto i brani che si cantano, ma di neomelodico c'è dentro anche il comportamento, la postura di quando si canta, il testo e la musica, quindi l'arrangiamento. Allora, il neomelodico oggi, ragazzi, ha fatto diventare la canzone, dico, di un defunto, l'abbiamo fatta diventare reggaeton, ok? Ci può stare, niente a che vedere, il primo io. Lo sottolineo sempre, ragazzi, il primo io faccio neomelodico da vent'anni. Ma lasciando stare quello, ragazzi, diciamocelo chiaro in faccia. Che cosa siamo, ragazzi? Che cosa siamo? Neomelodici, oggi, per colpa di altri, che cosa siamo? Cantiamo soltanto tette, cosce e culo. Cantiamo la malavita. Che cazzo volete dire? Ma che cosa siamo? Ma che torto volete dare a neomelodici, ragazzi? Ma vedete di smetterla? Vedete di smetterla? Sì, la maggior parte di noi, anzi, non la maggior parte, scusate, mi corrego immediatamente. Sono in tantissimi gli artisti che cantano il mio melodico, ma cantano l'amore, ok? Cantiamo l'amore, ok? Ma purtroppo, ragazzi, la maggioranza, la maggioranza di questo ambito musicale, che noi tanto amiamo, seguiamo, la maggioranza canta la malavita. Oggi, quando dici, sei in comunità con altra gente, sei prendendo un caffè al bar, e si parla di neomelodico, ragazzi, ti guardano dalla testa ai piedi. La gente ti guarda dalla testa ai piedi, ok? Perché la prima cosa che pensa è la malavita, la mafia, quando sente neomelodico. Non è colpa nostra, ragazzi, noi cantiamo l'amore. Purtroppo, però, la maggioranza, la quantità più grossa, ragazzi, di questa nostra società musicale, canta la malavita, e canta le tette, le cosce e il culo. Ragazzi, io sono spontaneo, io parlo così, lo dico in faccia, non me ne fotti un cazzo. Ok, va bene. Quindi non ce la prendiamo con il notangelo. Cerchiamo di sbloccarci con questo discorso di notangelo, che ha discreditato Napoli. Ma quando mai? Ma quando mai? Infatti ha dato una risposta, che ho visto, e non mi va nemmeno di condividere, perché sarò sicuro che tutti già avete visualizzato la risposta di notangelo. E non c'è bisogno che dica altro. Ma fatevi due conti. Dio melodici, fatevi due conti. Come me li faccio anch'io. Anch'io canto l'amore. Anch'io canto l'amore. Anch'io ho cantato tette, cosce e culo. Qualche brano ogni tanto. ci sta per spingere il brano a livello commerciale, magari d'estate. Qualche video particolare ci sta. Ma fatevi due conti perché la gente ce l'ha con noi, ragazzi. Fatevi due conti perché la gente ce l'ha con noi. La gente purtroppo di un filo n'erba ne ha dovuto fare per forza un fascio, perché la maggioranza di questi artisti che oggi si svegliano e cantano tette, cosce e culo, è più di quelli che cantano l'amore. Avete capito, ragazzi, perché Nino D'Angelo si è espresso in quel modo? E perché per Nino D'Angelo è stata anche un'offesa essere stato etichettato neomelodico. Quindi, ragazzi, smettetela, smettetela, ancora con questi video che fate, che siete nati ieri, siete nati ieri, e già puntate il dito su Nino D'Angelo, smettetela, smettetela. Poi vi dico un'altra cosa. Non prendetevela con Nino D'Angelo, che non sta più a Napoli e si trova a Roma. Andate a bussare a casa di Mario Trevi. Andate a parlare con altri artisti grossi, che rappresentano la musica napoletana, che stanno a Napoli. Andate da loro a bussare, andate da loro a fare questa domanda. Cosa ne pensi dei neomelodici? Non vi soffermate su Nino D'Angelo. Nino D'Angelo è stato un grandissimo signore. Ok? Perché siamo tutti etichettati come malavitosi, spavaldi, e cantiamo tette, cosce e culo. Ragazzi, finetela. La vita a finire. La vita a finire. E vi ribadisco, vi ribadisco. Io canto, suono e scrivo neomelodico da vent'anni, ma faccio parte di quella fascia che canta l'amore. Ok? Canta l'amore. Però purtroppo oggi neomelodici, quando si udisce questa frase, ovviamente si va a correlare a quell'ambito musicale e tutt'altro. E mi sembra giusto perché è quello che accade. Perché è quello che accade. Perché il neomelodico di oggi, la buona parte, anzi la cattiva parte, scusate, la maggioranza di quello che canta il neomelodico oggi, rappresenta problemi sociali, la droga, la mafia, lo spaccio. Ragazzi, ragazzi, mettiamola, guardiamoci allo specchio. Siamo questo. Siamo questo. Anche quelli che cantano l'amore sono nello stesso sacco. Cosa doveva fare il neodangelo? Doveva sollevare quelli bravi, chi sono, dire nome e cognome, codice fiscale, il numero della scarpa, la... Venemi finì, la piccola. Picciotti, venite i finì. Ad la furnista a struzzate. Un bacio. Sono un pazzo, ma sono sincero. Ciao. Grazie.